Primi passi dell'accensione Rodesvars SK08, panoramica, alto-basso, vicino-lontano, rumore delle ventole, è già in preriscaldo, anodica, 3008, frequensimetro è spento, non lavora, i comandi sono pronti, alimentatore anche, parte sintetizzata programmabile, alimentatore TXO, allineato, livelli, livelli li vediamo subito qua, ci sono tutti, entro ai suoi valori abbondante, ecco qua, dopo faremo la uscita, il rumore, due ventole, una per colonna, è tutto fermo così, al momento è così, adesso è in stand-by, in CW, segnale in continua e basta, facciamo partire, ecco, la lampadina comincia a accendersi, una leggera allineamento, la luce aumenta tantissimo, l'intensità, ecco qua, la corrente c'è tutta, l'uscita a 400 W, pilotaggio un pochino bassino, non fa niente, la lampadina, il foro, monitor del tubo, non so se si vede, è ancora bello scuro, bene qua, poi 3.500, 3.300 W di anodica, il pilotaggio all'inizio, i livelli sono ottimali, 100% di uscita, è tutto 3.700 W di anodica, accordatore d'antenna non è stato verificato, ma funziona. Lampadina, qua bella luce intensa, 110 volt, 110 volt, 500 watt, spegniamo la luce ambiente, molto bello luminoso, bellissimo, panoramica, tra motori e diavolerie varie, eccoci qua, andiamo alla parte posteriore, filtro della prima colonna, in umidità d'olio, stiamo preparando il filtro della seconda colonna, trasformatore trifase AV, entrata 380, uscita 220 su due colonne, AC, attacchiamo un attimo.